Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Questa sera vi parlo di rugby, abbiamo la seconda semifinale del campionato italiano top 10 ancora da raccontarvi. Prima di entrare nel dettaglio di questa valoregby contro Rovigo, grazie se vi dovesse piacere il video per un like, per un mi piace, grazie per iscrivervi al canale, tantissime infinite grazie agli iscritti degli ultimi giorni e infinite, grazie ancora anche per il grande sostegno al mio canale. Abbiamo parlato sabato della prima semifinale, molto interessante tra Calvisano e Petrar Capado, avvinta dalla formazione in trasferta per 16-12, oggi invece parliamo della seconda semifinale che si è giocata domenica, Valoragby contro Rovigo, anche in questo caso partita all'insegna del grande equilibrio e vittoria in trasferta, 16-9 da parte dei campioni d'Italia del Rovigo al termine di una partita che a me è piaciuta tantissimo. Sicuramente non si è trattato di una gara particolarmente scoppiettante dal punto di vista spettacolare, però è questo il bello, quello che io amo da sempre di questo campionato italiano, partite molto combattute, molto tignose, tanto possesso, tanti anche errori sicuramente, ma un'intensità assolutamente fuori dal comune. Rovigo ha vinto nel complesso credo meritatamente, ha avuto il torto di non capitalizzare di più soprattutto su un primo tempo che ha giocato meglio della formazione emiliana, che però va detto è stata penalizzata subito nei primi minuti dall'infortunio di Garcia, il numero 9 che era partito peraltro anche piuttosto in maniera brillante, sicuramente è uno dei giocatori più forti della formazione di Reggio Emilia e anche comunque uno dei giocatori più fantasiosi. È stato sostituito da Dominguez, figlio d'arte, che non ha giocato una partita del tutto cattiva penso, però comunque sicuramente si è visto un diverso modo di stare in campo, un diverso modo di lanciare il gioco della formazione di Reggio Emilia. Prima brutta notizia per Reggio era stata questa, la seconda brutta notizia è il giallo, corretto, che è stato combinato dall'arbitro Gniecchi a Damenta, Rovigo ha avuto l'uomo in più per dieci minuti, ha fatto fatica comunque a sviluppare il proprio gioco, Reggio Emilia ha difeso molto bene, peraltro poi c'era la situazione anche, probabilmente per dare anche un secondo cartellino giallo contro Reggio Emilia perché sia Farolini sia Dominguez con un po' di antigioco, Farolini un impiaccaggio brutto, Dominguez un in avanti volontario, però in questo caso l'arbitro Gniecchi invece ha deciso soltanto per il calcio di punizione senza dare un secondo cartellino. Rovigo quindi ha capitalizzato con l'unica meta della gara realizzata da Leccioli, una meta sudafricana di forza dopo la Touche spingendo in meta la difesa avversaria, però rispetto a quanto era il gioco, il possesso di palla, Rovigo avrebbe il possesso del terreno, anche Rovigo probabilmente avrebbe dovuto chiudere più in vantaggio il primo tempo. Invece nel secondo tempo il Vallo Rugby ha giocato una partita ancora più intensa, il secondo tempo è stato pieno di mischie, pieno di interruzioni e la partita è durata tantissimo e devo dire che c'è stato un diverso equilibrio anche in mischia perché il Vallo Rugby con i cambi di intervallo aveva preso il possesso della mischia, aveva portato a casa un calcio di punizione piazzato da Newton, si era riavvicinata nel punteggio, però Rovigo ha fatto un cambio molto importante, ha inserito Pomaro e proprio l'inserimento di Pomaro credo abbia rimesso a posto le cose. Rovigo è tornata invece su due mischie che si sono comunque nel complesso pacchetti di mischie che si sono nel complesso equivalzi, però nella seconda metà del secondo tempo con Pomaro in campo credo che Rovigo abbia avuto più controllo del gioco e da lì ha costruito i due calci di punizione di Varlene ancora con i quali ha messo questa vittoria di sette punti, un successo che naturalmente lascia ancora tutto aperto per l'incontro di ritorno, tutte e due le semifinali sono ancora molto aperte, però mentre il Petrarca che era favorito sicuramente giocando in casa al ritorno forse potrebbe avere un passo in più già per la finale tra due squadre che si equivalgono così tanto come Reggio e il Valoregbi sarà molto interessante anche la gara di ritorno. Rovigo però è una squadra molto esperta, squadra molto matura, squadra che conosce anche il palcoscenico così importante di questo stadio della manifestazione, io darei ancora un pochino di favore alla squadra di Rovigo. Venendo ai singoli, i giocatori che mi hanno più impressionato per il Valoregbi, buonissima partita, specie nel primo tempo di Farolini, l'estremo, che ha giocato molto bene, mi è piaciuto all'ala paletta, mi è piaciuto piuttosto, Amenta al di là del giallo che ha subito nei primi minuti, poi ha giocato una partita molto intensa, molto bene anche Luz sia in mischia che in rimessa, bravo Sanavia in tush, bravo Sanavia quando è entrato che ha messo molto a posto bene la mischia, Dominguez come detto così così, Newton preciso al piede ma non tanto inventiva nel gioco, peccato per l'infortunio di Garcia, mi sarei aspettato qualcosa di più nei minuti in cui è stato in campo Dantl che invece non è riuscito a fare, a cambiare più di tanto la partita. Per Rovigo, a parte l'errore nel finale clamoroso di Dareon in avanti senza ostacoli a tre o quattro minuti della fine, errore non forzato, per il resto una bella partita soprattutto nel primo tempo quando ha trovato un paio di corridoi, corsi veramente molto bene, bravissimo Ferrario, numero 12, una prestazione veramente intensa di un giocatore di una grande leadership, Varrenel molto preciso, bella partita, ha sbagliato il calcio più facile che ha tirato oggi, per il resto bene, Luby ha premiato come migliore in campo una gran partita, mi è piaciuto molto Quaglio in mischia, detto di Pomaro decisivo, Visentin e Killon, anche Killon nel finale non mi è dispiaciuto, ha fatto piuttosto bene. Gniecchi meno bene di quello che è stato Sabato Piardi, però ha un buon arbitraggio discreto anche per lui, 6 e mezzo il voto a lui, 7 era il voto a Piardi l'altra sera e l'unica cosa, non ho trovato magari tanta coerenza, mi è piaciuto di più come ha arbitrato il secondo tempo rispetto al primo tempo. Abbiamo quindi nel weekend queste due semifinali di ritorno che si annunciano ancora molto intense, è un bel campionato, noi con il canale seguiremo le due semifinali e la finale, io adoro questo campionato italiano, l'ho già detto nell'altro video, il rugby di casa nostra sicuro non saranno le vette spettacolari di vedere l'altro emisfero australe, ma a me piace l'emisfero sud, a me piace molto comunque vedere questo rugby così di grinta, di voglia, di combattività, rugby dei campanili, molto molto bello. Iscrivetevi al canale, fatemi sapere commenti cosa ne pensate di questa partita e qual è il vostro favorito per la vittoria del campionato. Grazie a tutti, un bacio, alla prossima, ciao da ROX.